E' stato arrestato in Inghilterra Michael Dennis Whitbread, il 74enne inglese, in fuga da quattro giorni, ritenuto l'assassino della compagna Michelle Down Fares, inglese di 66 anni, uccisa con sette coltellate alla schiena, nella loro abitazione incontrata Verratti a Casoli, dove la coppia viveva da tre anni. L'arresto è avvenuto in Inghilterra, dove il 74enne si era rifugiato. Si ipotizza che Michael Dennis Whitbread possa aver agito spinto da quelli che vengono comunemente chiamati motivi passionali. Gli investigatori hanno ascoltato vicini e conoscenti della coppia, oltre ai numerosi connazionali residenti nella vicina Palombaro, dove è presente una folta comunità britannica che Michelle e il suo compagno frequentavano assiduamente. Le ricerche del 74enne si sono subito estese anche all'estero. A giorni il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, che indaga per omicidio, conferirà l'incarico per l'autopsia al medico legale Pietro Falco. Gli investigatori dell'unità operativa speciale della East Midlands sono in contatto con la polizia italiana. L'ispettore David Greenhalgh dell'EMSU ha dichiarato «Stiamo continuando a lavorare con le autorità sia nel Regno Unito che in Italia». La famiglia della signora Fares ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento e chiederei che questa venga rispettata. Michelle Down Fares, intanto è morta, uccisa da sette coltellate proprio sabato scorso. Il 74enne inglese è originario di Torquay, frazione costiera di Torbay, municipalità del Regno Unito, nella contea inglese di Devon. L'uomo avrebbe preso l'automobile di famiglia, una jeep bianca. La vittima era separata e conviveva con il 74enne, anche egli è separato. I vicini raccontano che la coppia era piuttosto riservata e con i cani due uscivano per delle lunghe passeggiate tra il verde che circonda il casolare in cui abitano da circa tre anni e distante 10 chilometri dal centro di Casoli. A dare l'allarme ieri mattina è stata un'amica di Michelle, anche lei inglese che vive a Palombaro. La donna era preoccupata perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con l'amica e per questo ha deciso di raggiungere l'abitazione della coppia. Ed è lì, in camera da letto e in pigiama, che l'ha trovata in una pozza di sangue. Al momento non c'è alcuna certezza, soltanto un sospetto corroborato dalla fuga di Michael Dennis Weabred in Inghilterra.